Grazie a tutti Invece ho la crema di nocciole fatta in casa E che merenda è mai questa? Questa è una cioccolata fatta in casa, è fatta con le nocciole del giffonio Valle Piano Ragazzi, saggiate Bene, in effetti è buona Le nocciole hanno diverse proprietà benefiche Ricordiamo, ad esempio, che contengono Vitamina E, che protegge dai raggi ultravioletti e dall'invecchiamento prematuro della pelle Oltre a prevenire l'insorgere di tumori Manganese, che ha proprietà antiossidanti e che facilita la sintesi degli acidi grassi e quindi riduce il colesterolo Fitosteroidi, che aiutano a prevenire le malattie cardiocircolatorie Grassi insaturi, che riducono il livello del colesterolo LDL Magnesio, che regola il livello di calcio nei muscoli e nelle ossa Vitamina B6, che è importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso La stanno bene mangiando La stanno bene mangiando